Buonasera a tutti, mi chiamo Laura Ralla. Nella vita cosa faccio? Adesso costruisco questi strumenti che sono Genesa Crystal, sono massaggista, faccio Reiki, parlo telepaticamente con gli animali, faccio un sacco di cose, astrologia, regole carte, mi occupo di angeli. In questo momento sono però un po' bloccata in Spagna, non sto lavorando molto, mi stavo un po' annoiando e questo corso con Patrizia sinceramente mi è servito proprio per darmi una mossa. Ho saputo di questo evento perché chiaramente sono iscritta nel gruppo Divine Connection e mi è arrivata la comunicazione lì anche tramite email. Ho deciso di partecipare, prima cosa perché mi piace molto lavorare con Patrizia, ho partecipato ad altri suoi corsi, mi ha aiutato molto. Per esempio ero molto più arrabbiata, prima nervosa, adesso sono molto più tranquilla, riesco anche a stare ferma. E seconda cosa appunto perché in questo periodo ero un po' come dire ferma ed emotivata e volevo trovare qualcosa che mi dava la svolta giusta. Mi è piaciuto tutte le lezioni alle sette del mattino che mi hanno proprio dato una bella dose di disciplina. Mi è piaciuto sinceramente tutto. I tre giorni sono stata incollata al video. Quello che mi ha colpito di più è proprio quello che ha attivato in me. Per cui come dicevo prima questo fatto della disciplina delle sette del mattino non è solo una cosa teorica ma tutti questi lavori su di noi attivano dei meccanismi nel mio corpo, nel mio cuore, nel mio cervello che mi spingono a fare delle cose. Devo dire che dopo il primo giorno era talmente tanta la cosa che dalla super euforia sono passata comunque un attimo di defiance. E adesso ogni giorno quando dico è troppo, troppe cose o così, espando e pian pianino sto cercando veramente di continuare in questa bella energia che mi si è attivata e a migliorare. Dopo questa esperienza, quello che mi porto dietro è comunque questa grande energia, questa nuova motivazione. Praticamente adesso mi sta dando delle voglia proprio di mettere a posto tutte le cose che avevo in sospeso, studiare le cose che magari mi manca quel click e mi sono rimessa a lavorare. Sì, lo consiglierei e lo consiglierei sempre perché vedo il beneficio su di me, è meraviglioso, straordinario, com'è una vita straordinaria, straordinario. La prima cosa che ho fatto è mettermi a cercare il calendario, a comprare un'agenda. Sono andata a farmi le fotocopie del manifesto piccola, plastificata, la metto dallo specchio del bagno. È una grande appesa in sala. Ho guardato la mappa, quella delle cose che mancano. Io nel suo periodo sono mancante a diversi livelli, per cui ho iniziato comunque a chiamare i miei parenti, degli amici. Ho cominciato a fare delle cose che li mandavo e mi sono attivata. Ecco, queste sono le prime cose che ho fatto. Patrizia, grazie, sei stata veramente molto umana e anche materna insegnandoci queste cose. Per cui ti ringrazio veramente, ti ringrazio di evolvere sempre e di aiutarci anche noi a evolvere. E questo corso veramente mi ha piaciuto tanto. Grazie, grazie veramente di tutto. Grazie, shukra.